La casa è un diritto, è la scritta che campeggia su uno striscione esposto questa mattina a Gela, cronaca di una giornata di ordinaria protesta dinanzi a Palazzo di Città. Non vogliono lasciare le case popolari in cui vivono da anni, chiedono di restare, monta la protesta. Sono i cittadini che fanno sentire a gran voce le loro richieste, invocano l'intervento del presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Oggi per l'ennesima volta siamo qua davanti al comune di Gela per il fatto degli alloggi popolari. Noi vogliamo la regolizzazione subito, immediata, perché da 12 anni, 13 anni abitiamo in queste case e non ci potete buttare fuori. Noi siamo stanchi, lancio un appello a Crocetta che intervenga immediatamente. Siamo disagiati, siamo in mezzo a una strada, siamo anche senza lavoro. Signor Crocetta si muove, che noi siamo stanchi. Noi vogliamo essere regolate nella granatoria, per la casa, abbiamo tutti i diritti. Noi vogliamo a Crocetta, Crocetta deve venire qua subito, immediatamente Crocetta. Abbiamo chiesto aiuto per un lavoro e si fanno sordi. Abbiamo chiesto di farci mettere in regola per le case e non ci interessa niente. Ci sono persone che veramente abbiamo bisogno, siamo persone che abbiamo bisogno di un lavoro e di un tetto. E al limite ci trovano un'alternativa, prendono una casa, la casa sostitutiva, e ci mettono in un'altra casa sostitutiva. Queste sono case popolari, persone che non ci abitano da 30 anni, case vuote, persone che la usano soltanto come casa a vacanza. Cioè ci sono persone che si fanno segnare la casa e poi se ne vanno.